Grazie a tutti. Ave Maria, piena di grazia, Signora con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega di noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. I primi due giorni abbiamo trattato la passione di Gesù secondo il Vangelo di San Giovanni con questi temi, il re imprigionato, il re giudicato, condannato e torturato. Oggi, invece, trattiamo il tema il re assassinato, però potremmo anche titolarlo, questo argomento di oggi, con le nozze del re. Vedremo perché. Intanto vediamo che la scena della crocifissione di Gesù si conclude con la deposizione, quella che in termini di pietà popolare viene chiamata la pietà, Gesù deposto sulle ginocchia di Maria, con la collaborazione di due membri qualificati del Sinedio, Giuseppe da Rimatea e Nicodemo. Il Calvario era un luogo, una collina, sopra Gerusalemme, al di fuori delle mura, che veniva chiamato così perché somigliava, essendo un locale brullo, senza vegetazione, sembrava un teschio a guardarlo, quindi Calvario nel senso di calvo. Però, terminata la crocifissione e compiuti i primi riti della pulitura del corpo di Gesù, fu avvolto in un lenzuolo e fu deposto in un sepolcro nuovo, dove nessuno mai era stato sepolcro, dentro un giardino. È molto importante questo discorso perché Gesù cominciò la sua passione in un giardino, il giardino degli olivi, lì che fu arrestato. Lì comincia la sua passione e la sua passione termina proprio nel sepolcro in un altro giardino. La parola giardino in persiano si dice paradiso. I due giardini, quello dell'agonia e quello della sepoltura, ci richiamano ad altri due giardini, almeno due. Il giardino del paradiso terrestre, dell'Eden, dove Adamo, dormendo, diede vita con la sua costola alla sua donna, Eva, e il giardino degli sposi del Cantico dei Cantici, quindi Gesù sulla croce, in un luogo arido che simboleggia il cammino del popolo di Dio nel deserto. Da questo luogo arido passa a un giardino, il giardino della sepoltura. L'agonia dell'orto è un'agonia angosciante che Giovanni non descrive. Abbiamo visto il primo giorno perché vuole presentare la figura di Gesù come un re nella sua grande dignità che non che sia dominato dalla sofferenza, che sia abbattuto e angosciato dalla sofferenza, ma che supera la sofferenza. Mentre l'agonia di Gesù la possiamo vedere sempre con questo taglio meraviglioso di superamento della sofferenza, nel Vangelo di San Giovanni sulla croce. I sinottici avevano parlato di un calice amaro che Gesù aveva difficoltà e problemi a sorbire, tant'è che pregava il padre di non dargli questo calice amaro da bere. Nel Vangelo di San Giovanni, quando invece Pietro taglia l'orecchio a Malco, il servo del sommo sacerdote, dice a Pietro, rimette la spada nel fodero, non devo forse io bere il calice che mi è stato dato. Quindi, mentre lì è un calice che Gesù accetta mettendo il suo cuore all'interno della volontà del padre, qui è un calice che Gesù riceve, accoglie dalle mani del padre, perché è un calice che gli viene donato. E allora è meraviglioso questo accostamento del calice che gli viene offerto dal padre e di Gesù che offre la sua vita, come abbiamo detto il primo giorno, citando il brano di Isaia, capitolo 43. Egli si è offerto perché lo ha voluto. Quindi la sua consegna, la consegna della sua vita, è voluta da Lui per amore, perché gli uomini potessero, attraverso questa consegna, consegnarsi nelle mani di Dio e consegnare la loro vita nelle mani di Dio. Poi la crocifissione viene preceduta dal viaggio verso il Calvario. Nel Vangelo di San Giovanni non si parla e non viene descritta la coronazione di spine, la flagellazione. Due parole scarne, quasi anonime e Pilato prese Gesù e lo fece a flagellare. Stop. È come se Giovanni parlasse di un estraneo, ma Giovanni, il discepolo amato, parlava del maestro amato. Gesù porta la croce verso il Calvario e la porta da solo. Non c'è, durante il viaggio verso il Calvario, il gruppo di donne devote di Gerusalemme, questa associazione benefica, come dicono gli storici, che esisteva e che organizzava il conforto. Dei condannati a morte. La cita soltanto la presenza di queste donne, le cosiddette piedonne, le donne di Gerusalemme, solo il Vangelo di San Luca, l'Evangelista della Misericordia. Non c'è neanche l'accenno, citato da tutte e tre gli altri evangelisti, del Cireneo, quell'uomo di Cirene che veniva dalla campagna ed è stato requisito dai soldati romani perché aiutasse Gesù a portare la croce. Non c'è nel Vangelo di San Giovanni. Tantomeno i due incontri della tradizione della nostra via crucis, quello con sua madre e quello con la Veronica che asciuga il volto di Gesù. Niente di tutto questo. Gesù cammina solo e va solo come un agnello condotto al macello, ci diceva il profeta Isaia, verso il luogo della sua morte. Nota il Vangelo di San Giovanni che sulla croce di Gesù c'era una scritta. Questa scritta era usanza per i crocifissi che la portassero al collo a tipo una insegna, una medaglia, un segno di riconoscimento che la gente curiosa nel vedere passati condannati a morte desiderava sapere perché e in questa scritta c'era la causa della loro condanna e nella scritta per Gesù c'era scritto proprio Gesù Nazareno Re dei Giudei. Ma c'è un particolare nel Vangelo di San Giovanni molto importante intanto che questa scritta viene affissa alla croce sulla testa di Gesù. La vediamo in tutti i crocifissi troviamo scritto Irri significa Gesù Nazareno Re dei Giudei. Però il Vangelo di San Giovanni ci dà un particolare molto interessante che la scritta intanto non abbreviata col puntino ma proprio diffusa era in tre lingue in ebraico la lingua dei abitanti del posto in greco la lingua internazionale il greco allora era quello che è il linguese al giornologio e il latino la lingua dei romani dominatori. Ha un significato teologico questo fatto di una scritta Gesù Nazareno Re dei Giudei il latino sì in greco sì in ebraico sì significa che Gesù è il re sì dei Giudei ma il suo essere re dei Giudei con la sua morte diventa la possibilità di essere re anche anche dei romani anche dei greci in pratica di tutto il mondo allora conosciuto al giorno d'oggi Giovanni avrebbe scritto era scritto in tutte le lingue del mondo chi va in Palestina e si rega nel luogo dove Gesù ha recitato il Padre Nostro trova il Padre Nostro in più di 90 lingue con la scritta in ceramica così se si va nella casa di Giovanni Battista cioè di Elisabetta e di Zaccaria c'è il Magnificat e il Beneditus in tantissime lingue è il segno della universalità del messaggio di Gesù del destino del Vangelo a tutti gli esseri della Terra a tutti gli uomini della Terra è un dato teologico importantissimo il Vangelo non è solo per i giudei né Gesù è soltanto il re dei giudei è il re universale in Giovanni abbiamo anche una contestazione da parte degli iscrivi dei farisei e dei sommi sacerdoti andarono da Pilate a protestare devi scrivere che egli dice di essere re dei giudei non soltanto Gesù Nazareno re dei giudei Pilato risponde offeso e un po' ironico quello che ho scritto ho scritto non gliela volle dare per vinta evidentemente è un riconoscimento anche se evidentemente parziale o comunque non profondo da parte di Pilato di Gesù come re dei giudei e il mondo della potenza il mondo romano il mondo dell'imperatore del rappresentante dell'imperatore che si inchina a questo re che è venuto a salvare anche i romani e che farà della città di Roma il centro propulsore del suo Vangelo e della diffusione della sua chiesa sulla terra ma c'è anche un particolare molto interessante nel Vangelo di San Giovanni mentre negli altri evangelisti si parla delle vesti che si divisero tra di loro in San Giovanni si parla invece delle vesti che si divisero in quattro parti i soldati erano quattro e la tunica la tunica era interessante questo particolare del Vangelo di San Giovanni era cucita da capo a piedi senza nessuna cucitura era diciamo così una tunica particolare saremo curiosi forse di capire a sapere com'era questa tunica era un grosso tocco di stoffa che copriva tutto il corpo all'interno del quale al centro c'era un buco da dove passava la testa e poi si diciamo si legava con una cintura doveva essere diciamo una veste di valore la tradizione antica dice che era una veste che gli aveva tessuto sua madre Maria ed è una tradizione anche se non documentata certamente valida e altamente significativa la tunica che non fu divisa secondo la tradizione della chiesa il pensiero dei padri della chiesa è una cosa molto interessante perché sta a significare la chiesa che è il vestito di Gesù e non è stata divisa perché nella mentalità dei santi padri della chiesa la chiesa non può essere divisa vi ricordo a questo proposito la piccola opera di un grande padre della chiesa di San Cipriano vescovo di Cartagine siamo all'incirca nel 250 dopo Cristo il quale aveva detto nella sua opera l'unità della chiesa la chiesa non può essere divisa chi divide la chiesa chi si opera perché la chiesa possa essere divisa è come il violare l'innocenza e la santità del talamo nuziale una frase molto forte ma molto significativa quindi questa tunica che non viene divisa ma viene tirata a sorte sta a significare la chiesa che resta unita nonostante i peccati di divisione da parte degli uomini un altro particolare interessante nel Vangelo di San Giovanni Gesù vi dai piedi della croce stavano dice Gesù ai piedi della croce stava Maria sua madre la sorella di sua madre Maria di Cleofer Maria Maddalena e il discepolo che Gesù amava ora vedendo sua madre e il discepolo Gesù disse al discepolo ecco tua madre e alla madre donna ecco tuo figlio e da quel momento dice il Vangelo di San Giovanni il discepolo la prese si dice con sé ma la traduzione precisa è la prese nelle sue cose all'interno delle sue cose un grande teologo francese del 1900 Ignace della Potterie dice qualcosa di molto interessante lui traduce prese Maria nella sua intimità tra le sue cose è la traduzione letterale attenzione però cosa è un termine preso apprestito dal linguaggio dell'amore non dal linguaggio della proprietà perché è come quando una persona dice di amare qualcuno e dice è cosa mia e quindi se Giovanni prende Maria tra le sue cose significa la prese come cosa sua e spiritualmente la abbracciò facendola penetrare nella sua intimità tutto questo capite bene che è un discorso molto importante perché ci suggerisce un rito nuziale è come se se Dio avesse davanti ai suoi occhi Adamo ed Eva quando disse cresce li benedisse e disse crescete e moltiplicatevi e riempite tutta la terra qui è il figlio di Dio che benedice il discepolo amato e benedice sua madre che attenzione non la chiama né madre né Maria la chiama donna ma non per una mancanza di rispetto ma perché donna sta a richiamare la donna la prima donna io porrò l'amicizia fra te e la donna fra la tua e la sua discendenza e quindi in questo caso Maria che due righe prima il Vangelo di Giovanni aveva chiamato madre Gesù la chiama donna a indicare che sua madre non è più solo sua madre è la donna la donna universale la donna che è il tipo della donna quindi la sposa quindi avviene quasi uno scambio vitale fra il discepolo amato e la madre di Gesù e da quel momento avviene lo sposalizio fra la chiesa e Gesù Gesù e la chiesa saranno sposi per sempre con la differenza che Gesù sarebbe stato sempre lo sposo fedele e la chiesa invece spesso si è dimostrata sposa infedele è importante anche a questo discorso perché subito dopo la morte di Gesù avviene un altro evento grandioso era usanza per i giudei non lavorare il giorno di sabato e la festa del sabato cominciava al tramonto del giorno prima e quindi i giudei vedendo che ormai si avviava il tramonto chiese rappilato di rompere le gambe ai crocifissi erano tre come ricorderete perché morissero più presto e non ci fosse la possibilità di andarle a seppellire dopo due giorni ecco allora che vennero dagli altri crocifissi e spezzarono le gambe dice l'Evangelo di San Giovanni ma quando vennero da Gesù videro che era morto e allora uno dei soldati gli trafisse il fianco con la lancia e dal sangue dal fianco di Gesù uscì sangue e acqua attenzione che questa acqua è qualcosa di molto importante perché richiama altri momenti della Sacra Scrittura richiama per esempio l'acqua abbondante che usciva dal tempio di cui parla il profeta Ezechiele nel capitolo 47 richiama l'acqua che Gesù diede alla Samaritana al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni richiama l'acqua che Gesù volle dare quando gridò davanti alla piscina vicino Gerusalemme chi ha sete venga a me e beva chi crede in me fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo fianco quindi quest'acqua sgorgata dal fianco di Gesù un'acqua attenzione viva non si tratta dell'acqua ferma non si tratta di sangue rappreso o di sangue che è in una borsa o in una pozzetta si tratta di sangue uscito dal corpo di Gesù di acqua uscita dal corpo di Gesù e quindi acqua viva e del resto il sangue e il sangue che Gesù versò per tutti gli uomini è il sangue dell'agnello di cui si parla anche nell'Apocalisse lo vedremo fra qualche istante un particolare degno di grande interesse nell'orario in cui furono spezzate le gambe e i crocifissi e fu aperto il fianco a Gesù era lo stesso orario in cui nel tempio venivano uccisi gli agnelli che dovevano servire per la festa della Pasqua gli agnelli che venivano trafitti e uccisi il discorso dell'agnello è estremamente importante perché ci ricorda l'agnello pasquale di cui parla il libro dell'esodo il libro dell'esodo si legge che fu ordinato agli ebrei di uccidere un agnello di spalmare il sangue dell'agnello negli stipiti delle porte in modo che l'angelo passando vedendo il sangue passava oltre questo significa Pasqua passaggio passava oltre e non faceva morire il figlio primogenito di quella casa e quindi il sangue di quell'agnello è simbolo del sangue di Gesù col sangue di Gesù l'umanità viene salvata invocando il sangue di Gesù ricordo in questo momento un grande apostolo del preziosissimo sangue San Gaspare del Bufalo che visse a Roma nei primi 50 anni del 1800 il sangue di Gesù che libera da ogni male che salva l'umanità ecco sta a indicare questo sangue proprio la vita di Gesù che viene offerta che viene immolata noi non apprezzeremo mai abbastanza il dono che Gesù ci ha fatto del suo sangue è importante perché noi chi può dona il suo sangue a volte si donano anche gli organi ma quando il dono del sangue praticamente è il dono che salva una vita è forte il legame che si crea fra chi è salvato e chi ha donato il suo sangue ma Gesù il suo sangue non l'ha donato soltanto per uno di noi per una sola persona il grande mistero del dono del sangue e dell'acqua di Gesù e il mistero del dono di sé e della sua vita per voi e per tutti aveva detto Gesù nell'ultima cena e quindi tutti quanti oggetto di quest'amore oggetto di questo di questo dono il Vangelo di San Giovanni richiama un brano del profeta Zaccaria dove si dice che è stato ucciso un giusto non si sa a chi vuole alludere Zaccaria ci sono molte opinioni dei teologi però ecco viene ucciso un innocente e guarderanno rivolgeranno lo sguardo dice il profeta Zaccaria a colui che hanno trafitto dice l'Evangelo di San Giovanni questo avvenne lo dice subito dopo lo squarcio del fianco di Gesù della lancia del soldato questo avvenne perché si adempisse la profezia del profeta volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto è importante allora che noi volgiamo lo sguardo a Gesù chi potrà mai più dimenticare il bacio di Papa Francesco al crocifisso della chiesa di Roma che lui era andato a venerare qualche giorno prima che sta a significare proprio la salvezza che viene da Gesù ecco questa salvezza che viene da Gesù continua ad essere attuale per noi il problema non è se Gesù è presente o no nella nostra vita Gesù è presente il problema è noi presenti in questo momento della storia accogliamo nella nostra vita il sangue di Gesù in questi giorni pochissimi hanno avuto la grazia di poter ricevere l'eucaristia però faccio un appello a tutti coloro che ascolteranno questa mia catechesi dobbiamo impegnarci ad accostarci al corpo e al sangue di Cristo sempre più spesso che sia possibile la domenica perché è un dovere gli altri giorni quando è possibile se non altro per riparare con le comunioni riparatrici coloro che non si comunicano mai coloro che peccano sempre coloro che hanno reso inutile con la loro vita il sangue di Gesù quel sangue preziosissimo versato per noi e per tutti in remissione dei peccati buona Pasqua a tutti grazie a tutti grazie a tutti